Tiene, prima uno scontro laterale con una prima auto, poi l'invasione della corsia opposta di marcia con l'auto che si ribalta più volte. Sono quattro le persone rimaste ferite nell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì in via Cappuccini a Tiene. Sul posto gli agenti della polizia locale con tre pattuglie, due ambulanze e i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle auto accartocciate. La strada è rimasta bloccata per circa due ore. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Sant'Orso.